Ciao ragazzi, siamo Mike e Gianluca, Master Trainer BYC. Siamo qui sia per ricordarvi che tra tre giorni c'è la tappa di Napoli, sia per parlarvi dell'allenamento che andremo a fare a questa tappa. Un format unico studiato per svolgere un allenamento intensivo. Ci saranno tre stazioni fisse, in un percorso di circa 7 km. La prima stazione con me, Gianluca e Body Wake, la seconda con Claudio, adesso non è presente oggi, Urban Fertiband. E la terza stazione, Tri Camp, con Mike. Un allenamento per il potenziamento muscolare e noi abbiamo il piacere di collaborare anche con tutti gli iscritti e appartenenti alla piattaforma Running Experience. Abbiamo bisogno di gente motivata come voi e quindi vi aspettiamo numerosi a Napoli il 22 aprile. Sabato mattina alle ore 9 a Piazza Prebiscito si sarà il ritiro della cuffia, della maglietta e si parte. Vi aspettiamo eh ragazzi. Ciao ragazzi, ciao.